Avrete già sentito parlare magari di democrazia partecipativa, di democrazia deliberativa, quando le istituzioni si organizzano invitandoci a dei processi, chiedendoci pareri, cercando di favorire l'argomentazione pubblica attorno a delle questioni. Una terza forma di democrazia che possiamo riconoscere soprattutto in anni molto recenti è cosiddetta contributiva. Il nostro comune di residenza per esempio non ci chiede tanto di partecipare a dei processi su una zona da rigenerare per esempio, ma è più interessato a capire, a fare una domanda molto aperta e a chiedere chi vuole contribuire e in che modo e su quali zone del territorio. La Costituzione italiana a questo proposito, con l'introduzione nel 2001, quindi vent'anni fa, del cosiddetto principio di sussidiarietà orizzontale torna molto utile. Cosa dice questo principio cosiddetto di sussidiarietà orizzontale appunto? Che lo Stato, le regioni, i comuni favoriscono l'autonoma iniziativa di cittadini singoli associati quando questi si adoperano per attività di interesse generale. È un principio che nel 2014 proprio in Emilia Romagna, grazie al primo regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, diventa una possibilità molto concreta, cioè nella vita delle persone gli abitanti per loro autonoma iniziativa possono proporre dei patti di collaborazione ai propri amministratori locali. Quindi questa domanda, chi vuole contribuire nei territori, vediamo che la risposta viene data nella metà dei casi circa da associazioni, in un quinto dei casi da individui singoli, questo è molto sorprendente, cioè persone che non hanno mai magari fatto attività politica, ma neanche dentro ad associazioni, che però vogliono contribuire con delle azioni di interesse generale a dei patti di collaborazione. Un altro quinto rappresentato da gruppi informali, quindi solo il gruppo dei genitori piuttosto che dei vicini di casa, che però appunto informalmente si dicono pronti a contribuire su azioni specifiche e anche un decimo dei contraenti sono soggetti profit, che appunto non si fanno pubblicità attraverso i patti, ma vogliono contribuire anch'essi ad azioni di interesse generale. Il comune di Ravenna ha adottato questo regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni da anni, quindi ci sono in corso dei patti di collaborazione che si iscrivono in questi circa 4.000 patti in corso in tutta Italia e quindi anche Ravenna è certamente un laboratorio di sussidiarietà orizzontale molto interessante. È anche notevole il fatto che durante la pandemia i patti di collaborazione non si siano fermati, ovviamente alcuni si sono fermati, ma altri sono invece proprio stati stipulati in risposta all'emergenza sociosanitaria e quindi questo è un dato che rende lo strumento effettivamente ancora più interessante e flessibile.